Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di come i social media potrebbero evolversi nel breve e lungo periodo. E vorrei farlo presentandovi un protocollo che si chiama Nostr, il quale permette di creare dei social tipo Twitter, tipo Twitch o altri, in maniera decentralizzata e incensurabile. Ok? Quindi siamo abituati finora ad avere i social media tipo Twitter e Facebook in maniera centralizzata, ossia c'è un'azienda che controlla il social media. In futuro potrebbe essere invece che il social media è controllato da una serie di service sparsi per il mondo e che voi stessi potete creare all'interno del vostro network di casa. Quindi non esiste più un'azienda che controlla tutto ciò che viene fatto all'interno del social media ma ci sono una serie di computer sparsi per il mondo che permettono di gestire i vari messaggi o contenuti che vengono creati dai creators stessi. Questo permette l'incensurabilità dei contenuti perché affinché un messaggio venga rimosso, ad esempio, dovrebbero mettersi d'accordo tutti i vari server, ok? E questo però è molto improbabile, ok? Perché dovrebbero essere tutti d'accordo e questo non succede necessariamente. Bene, cominciamo a vedere quindi che cos'è Noster. Noster, come viene descritto qua, è un protocollo che è open source, che è globale, decentralizzato e censorship resistant, cioè resistente alla censura. Ok? Noster si basa su due concetti fondamentali, quello di relays e clients. Datteli qua. Fondamentalmente, parole semplici, i relays sono i server sparsi per il mondo che gestiscono il protocollo. I clients, invece, sono tutte le applicazioni che possono essere costruite sopra il protocollo Noster, ovvero tutti i vari social media, come ad esempio, qua ne potremo vedere alcuni, uno che si chiama Iris, che è una sorta di Twitter, poi c'è Abla, che è una sorta di Medium, dove potete postare articoli di qualsiasi tipo, qua abbiamo GestRui, che se non sbaglio è una sorta di chess.com, quindi dove potete giocare in scacchi, e qua abbiamo un altro che è simile a Twitch. Tutte queste applicazioni che abbiamo appena visto sono basate sul Noster protocol e la cosa interessante è che possiamo fare il login in ciascuna di queste applicazioni sempre con lo stesso account. Quindi se io ne creo uno, ad esempio su Iris, avrò una chiave privata e una pubblica e tramite la chiave pubblica io potrò dopo fare il login su ciascuno di questi social media. Vediamo quindi come farlo dal punto di vista pratico. Partiamo ad esempio da Iris. Qua vi chiederà il nome del vostro account. Mettiamo che ci chiamiamo marco.polo.stramativo e facciamo go. A questo punto possiamo vedere che siamo all'interno di un sistema molto simile a quello di Twitter, dove possiamo seguire gli account di altri utenti, ad esempio Snowden o Jack, ossia il CEO di Twitter prima di Elon Musk. Qua possiamo scrivere ad esempio i nostri tweet o i nostri messaggi, più in generale ad esempio ciao a tutti e facciamo post. Eccoci qua col messaggio. E beh, dopo sta a voi giocare un attimino e conoscere meglio questo social. Ad ogni modo, andiamo adesso su Settings e vediamo qua due cose molto importanti. La Public Key e la Private Key. La Private Key è fondamentalmente la password che vi permetterà di fare l'accesso al vostro account di Noster e non dovete condividerla con nessuno, questa chiave privata. La Public Key è ok, infatti la vedete qui, ma quella privata ve la scrivete su un foglio di carta oppure utilizzate un password manager tipo KeyPass e siete a posto. Non fatela vedere a nessuno. Potete utilizzare la Private Key per fare il login negli altri clients di Noster, ok? Bene, ora vi faccio vedere un'altra cosa che è molto utile quando utilizzate Noster, ovvero un altro, ovvero un plugin che vi permetterà di gestire il vostro account in maniera più efficiente. Quindi, andiamo su Google e scriviamo Chrome Store, poi cerchiamo Albi e installiamo questo plugin. Come potete vedere qua c'è scritto Bitcoin Lightning Wallet, vedremo dopo il motivo. Ora, una volta installata l'estensione vi verrà chiesto di creare una password. Createla e salvatevela da qualche parte, perché se la perdete siete fregati. Quindi, scriviamo la nostra password e clicchiamo su Next. Ora vi dirà di creare un account. Io il mio l'ho già creato, voi potete creare il vostro. È molto semplice, vi chiederà la mail e vi invierà un codice sulla mail che dovrete andare a inserire e poi, sufficiente, basta, comparirà questa schermata e potete fare il login nel vostro account. Vedete qua, io l'avevo già fatto. Bene, una volta che siete giunti su questa schermata, cliccate su Noster e dovrete importare la vostra chiave privata qua dentro. Quindi, cliccate su Import a Noster Account, Use Noster Private Key, la copiamo da qui, la piazziamo qua dentro e vediamo che qua la chiave pubblica viene automaticamente generata. A questo punto salviamo e vedremo che il nostro account adesso ha la chiave privata e la chiave pubblica salvate all'interno del plugin di Albi. Molto bene, proviamo a testarla e vedere se funziona. Quindi, torniamo qua, facciamo Logout, ok? E ora clicchiamo su Noster Extension Login. Vi si aprirà questa finestra dove vi dirà Posso connettermi a iris.to, certo, connect, confirm ed eccoci nuovamente sul nostro account marcopolo.esclamativo. Una cosa molto interessante di Noster è il concetto di zapping, ossia di dare delle mance sotto forma di bitcoin ai vari utenti nel caso in cui vi piacciono i loro contenuti. Quindi, se io vado su Follows, apro il menu a tendine e seleziono Global, vedo che alcuni utenti hanno questo simbolo a forma di fulmine. E qui potrò selezionare quanti satoshi, ok, che è una unità di misura di bitcoin, posso inviargli come reward, come mancia. Posso fare 1000, 5000 e così via. Per fare ciò ovviamente dovete avere dei satoshi nel vostro wallet e il wallet corrisponde esattamente a Albi. Infatti, se noi andiamo a vedere qui, nel mio caso io ho 42 satoshi, quindi praticamente niente, però posso permettermi di mandare e ricevere satoshi ad altri account. Per abilitare questa funzionalità è sufficiente andare sul vostro account, cliccare su Edit e qua vi chiederà Bitcoin Lightning Address. Dove lo troviamo? Beh, è abbastanza semplice. Andiamo qui sulla estensione di Albi e andiamo su Wallet. Poi facciamo Receive e qua c'è scritto Copy Lightning Address. Copiamolo e piazziamolo sul nostro account. A questo punto ci chiederà se vogliamo fare questa operazione, salviamo e dovrebbe comparirvi il simbolino del fulmine per poter ricevere e inviare satoshi. Nel mio caso, vabbè, non è necessario perché io ho già al mio account questo uno di prova e nient'altro. Benissimo, siamo giunti alla fine di questo tutorial. Spero che sia stato chiaro. Se avete domande, scriveretele nei commenti. Ovviamente, tutta questa storia di Noster, delle social media decentralizzate, è molto nuova e i vari clients hanno un sacco di bug, a volte sono lenti, quindi siamo ancora in una fase embrionale e sperimentale. Comunque, il mio consiglio è di giocare con questi strumenti e imparare ad usarli perché hanno molta potenzialità e non si sa mai che in un futuro possano essere anche un'occasione per avere dei benefici economici con tutta questa storia di Bitcoin e del Lightning Network. Quindi, vi ringrazio per l'attenzione. Nella descrizione del video trovate tutti i modi per supportare questo canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!